Può fare una domanda a sua madre guardando la telecamera Come ti trovi dall'altra parte del mondo? Ciao mamma, ma la smetti per caso di comprarmi delle camicie che non mi piacciono? Ciao mamma, a cosa pensavi quando mi hai concepito? Adesso me lo devi dire, tanti auguri! Mother, why you did me so handsome? Mamma, perché non posso balzare? Mamma, perché non ti fai un selfie con noi? Com'è avere i figli migliori del mondo? Mamma, perché sei generosa con me nonostante ti tratto male? Mamma, perché mi hai voluta? Mamma, perché hai 82 anni? Mamma, mi vuoi bene? E la mamma cosa dice la mamma? Sei la gioia della mia vita! Mamma, perché mi hai fatta così disagiata? Mamma, perché quando lavi i calzini bucati non li butti ma li rimetti nel cassetto? Mamma, perché mi hai chiamato così? Come? Riccardo! Mamma, con una sola cipa, bello! E un malese che vieni! Ciao mamma, volevo chiederti se anche per la festa della mamma preparerai una pastiera? Mamma, mi manca il couscous! Ema, quando mi vieni a trovare? Mamma, perché sei sempre incazzata? Mamma, perché sei così bella? Ciao mamma, quanti anni hai? Mamma, perché sei la mamma più fantastica del mondo? E' un regalo che vorrei poterla ne abbracciare di nuovo, anche se ce l'ha nel mio cuore. Grazie di tutto, mamma!